Questo è un trucchetto che si usa in cucina, nel senso di calatappi, cosa che manca qui. Stringiamo ben forti il collo della bottiglia e facciamo leva con un cucchiaio, con la testa del cucchiaio. Tac, come avete potuto vedere, si è aperta la bottiglia di franzino, che utilizzeremo giustamente per saltare le nostre fettine.